ciao a tutti ehi nome mario auto mario no sto scherzando è solo auto vincenzo con che nome sei conosciuto nel mondo ludico il puzzillo del sud ehi il meeple con la camicia ehi meeple tu sei quello che mi ha fatto spendere tutti quei soldi conosci napoli sei mai stato nella nostra città si conosco napoli sono stato a napoli e troppo poco purtroppo voglio tornare a visitarla perché mi mancano ancora dei posticini da sbirciare soprattutto dove andare a mangiare si conosco napoli e infatti proprio di recente sono state eventi come il comic con e casoria in gioco quando viene a conoscenza della tana dei goblin ed in che modo oggi ci interagisci in realtà ne vengo a conoscenza da quando ho ricominciato seriamente a giocare ovvero dal 2013 e tuttora interagisco davvero molto specialmente con il forum per trovare informazioni scambiare opinioni e vedere cosa ne pensano altri utenti dei giochi che mi interessano è tanto tempo fa in effetti non mi ricordo quando ormai perché sono tanti annevoli fa come cinta non ci interagisco non sono molto attivo sul forum della tana ma sicuramente interagisco con quelle persone che fanno parte della tana alle volte mi capita di partecipare anche a dei video con loro quindi sì c'è una sorta di interazione oltre ai giochi da tavolo qual è la tua passione che ancora oggi coltivi sicuramente la musica sono stato musicista ho collezionato comunque cd vinili cassette un tempo poi anche libri molti fumetti molti molti meno male che sono sono i fumetti perché spendevo 300 euro al mese e poi le ultime sono le puzzle box e l'ultima malattia sono queste in realtà ce ne sarebbero tante e sintetizzando molto velocemente direi videogiochi lettura di libri e fumetti e infini film se sono dell'orrore è ancora meglio quando ti avvicini giochi da tavolo da piccolo un po come tutti quanti ho iniziato con monopoli il risico però poi come detto prima riprendi in modo attivo nel 2013 grazie alla mia vecchia compagnia di catania con cui decidiamo di sperimentare un misterioso gioco che si chiama arkham horror seconda edizione di solito quando devo prenderli dallo scaffale perché da lontano con la telecinesi non ancora ci riesco facciamo un salto indietro di dieci anni circa e collochiamoci tra il 2013 2015 qual è il cambiamento più positivo che hanno subito i giochi da tavolo e quale quello più negativo secondo ti allora sicuramente il cambiamento positivo è stato quello che il mondo del gioco da tavolo è cresciuto tantissimo esponenzialmente e quindi sono venuti fuori un casino di autori di editori e tanti titoli che oggi c'è una scelta veramente allucinante è impossibile non trovare il gioco da tavolo per te e questo è anche il più grosso problema perché se ci vai a pensare con la crescita di questo mondo le case editrici gli editori devono fatturare ok perché prima era una roba che si faceva così come secondo lavoro adesso è diventato il lavoro principale di tanta gente e se vuoi tenere su un'azienda a pagare gli stipendi pagare le bollette pagare i fornitori devi fare un tot di giochi all'anno di conseguenza questi giochi sono molto meno testati rispetto a tanti anni fa non è sempre così ovviamente però nella maggior parte dei casi beh il lato positivo è che adesso i giochi da tavolo sono conosciuti da molte più persone quello negativo è che purtroppo vista la saturazione di mercato non si fanno più giochi eleganti per chi non lo sapesse elegante significa poche regole ma tanta profondità e da allora se è cambiato come è cambiato il tuo approccio al tavolo di gioco come molti giocatori prima giocava meno giochi ma li approfondivo di più mentre adesso è un continuo scoprire titoli nuovi e purtroppo raramente riesca a superare le dieci partite con lo stesso gioco è cambiato nel senso che è cambiata la mia esperienza con i giochi da tavolo giustamente prima era l'entusiasmo incredibile il gioco da tavolo mio dio che bello adesso è sempre così però ovviamente hai una certa esperienza hai provato tante cose quindi la sorpresa è un po ridotta oggi con che frequenza riesci a giocare un gioco che non sia finalizzato ad una recensione con chi giochi e qual è la tipologia di giochi che prediligi in questo momento dipende dal gioco per esempio noi ultimamente abbiamo deciso che adesso una volta a settimana giochiamo egemoni ok ed è questa una cosa che si è persa secondo me nel tempo il fatto di prendere un gioco di violentarlo fino a che non ti rompi le scatole di quel gioco è una cosa che dovremmo riprendere secondo me però è molto difficile se uno cerca poi di stare dietro tutti i titoli che escono o quasi i titoli che prediligo al momento ecco per esempio egemoni sicuramente uno di questi comunque giochi strategici giochi german quel tipo di giochi purtroppo se non è per il canale youtube non riesco a giocare un granchè ma devo ammettere che ho trovato un gruppo con cui stiamo cercando di rigiocare sempre lo stesso titolo in realtà una tipologia che non mi stanca mai sono quei simili wargame asimmetrici dove la politica e la contrattazione fanno davvero tanto e per me questa tipologia di giochi non andrà mai fuori moda giochi alla modalità solo che ne pensi e online per la modalità solo non fa per me ci ho provato con robinson crusò concludendo la campagna senza altri giocatori mentre per l'online apprezzo soltanto tabletop simulator per poter provare dei prototipi o comunque dei giochi che poi porterò sul canale ovviamente anche per fare playtest e sviluppo non è niente male e invece su altre piattaforme come board game arena proprio non riesco a farmela digerire sì gioco in solitario mi capita alle volte proprio perché mi piace altre volte perché aiuta un pochino a studiarti le regole no invece di portare due o tre altri giocatori esci fuori di testa utilizzi il solitario secondo me è una grossa aggiunta perché non solo ti aiuta a imparare il gioco ma oltretutto dalla possibilità a tutte quelle persone che non hanno un gruppo di gioco di poter giocare quindi tutti quelli che dicono no il solitario non serve a niente hanno perso tempo invece potevano sviluppare meglio il gioco normale ma sta zitto sì gioco molto online mi capita di testare giocare giochi su tabletop simulator quindi sì parecchio non potresti mai nemmeno provare un gioco che non così su due piedi ti direi un party game o un cooperativo però no non è vero in realtà non credo ci sia un gioco che non potrei mai neanche provare perché anche solo per la curiosità no per capire se veramente non mi piace o se veramente mi può piacere quindi no non escluderei niente sicuramente se mi devo fare una tranquilla serata di gioco e mi propongono un party game me ne vado a casa sinceramente quelli che richiedono doti come ad esempio la danza o il canto o simi il voodoo che mi mettono pesantemente in imbarazzo facciamo un giochino che abbiamo fatto anche con dalino e simone diamo qualche voto da 1 a 10 quanto contano per te in un gioco i materiali 3 i materiali direi 4 l'ambientazione 5 2 la durata 10 la durata dipende diciamo diciamo anche qui siamo su 45 dipende se il gioco è bello può durare quanto ti pare se il gioco è una chiavica spero che finisca prima possibile la longevità 6 8 l'interazione 7 10 se un collezionista seriale di giochi o hai superato con l'aiuto di uno specialista questo problema fortuna non sono più un collezionista e il canale infatti è stato il mio specialista e che bello ho fatto pure la rima e un tempo acquistava i giochi anche soltanto se c'era il nome di una casa editrice o un autore mentre adesso non riesco nemmeno a contare tutti i giochi che entrano e se ne vanno di casa no fortunatamente non sono un collezionista non vado oltre il centinaio di titoli molti giochi escono fuori dalla collezione alla velocità della luce perché cerco di tenermi solo quelli che sono sicuro che giocherò o che ai quali comunque un certo affetto ad un certo punto decidi di voler iniziare a recensire giochi quando prendi questa strada e perché degli amici mi dicevano sempre no ma si bravo a spiegare si bravo a spiegare perché non provi a fare qualcosa così e purtroppo gli ho creduto non avevano idea del danno che potevano causare alla società e ho deciso di partire con questo canale ma poi anche perché avevo sentito il bisogno perché non riuscivo a trovarne di questi tutorial che fossero molto molto dettagliati e non lasciassero spazio a nessun tipo di dubbio o almeno questo era il mio obiettivo e non so se poi ci sono riuscito o me lo auguro e quindi queste sono state più o meno le motivazioni Della serie quando inizialmente una cosa catastrofica porta delle belle cose perché ero appena stato licenziato dopo sei anni di lavoro e per puro svago mi metto a riprendere e a fare dei video così da far capire alle persone come funzionano i giochi da tavolo ed esprimere un mio veloce parere All'inizio provavi vergogna al pensiero che qualcuno che ti conoscesse poteva vederti e magari nemmeno capire cosa stessi facendo In realtà devo ammettere che la parte bella è proprio quella ovvero far capire alle persone che cosa sto facendo così da introdurle a questo fantastico hobby Io la vergogna non so neanche dove sta di casa Ehi vuoi andare su MTV a vincere i biglietti di metallica facendo l'immicile? Ma certo, ehi ti puoi vestire e truccare da donne e andare a teatro davanti a tante persone? Sicuramente Quali errori che si tende a commettere quando si iniziano a fare video recensioni? Due errori principalmente Uno è quello di pensare che sia la strada più facile per farsi dare dei giochi dagli editori e un altro credere che sia una cosa facile Se vuoi farlo seriamente devi renderti conto che è una cosa molto 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 difficile impegnativa, stressante, che richiede veramente una dedizione allucinante Gli errori principali sono che si pensa che sia davvero molto facile e che aprendo un canale YouTube si possono ottenere gratuitamente i giochi da tavolo Ma è concezione fu più errata perché dietro c'è davvero tanta conoscenza e tanto studio e bisogna essere anche parecchio preparati a fare dei sacrifici, molti sacrifici C'è un po' di confusione sul concetto di recensione Ogni volta che qualcuno parla di un gioco io affibbia il termine recensione Senza scomodare la Treccani, per te quando si può parlare realmente di recensione di un gioco? Beh, dal mio punto di vista è quando si analizzano tutti gli elementi di un gioco e poi si dà il proprio parere Questo perché nessuno fa recensioni Uno per poter fare una recensione dovrebbe avere una cultura talmente tanto enorme di questo mondo ed essere talmente tanto distaccato da un gioco che è impossibile Non lo può fare nessuno Una cosa del genere la possono fare forse, forse i migliori critici enogastronomici Ma probabilmente nemmeno loro Perché tu quando provi qualcosa, che sia un cibo o un gioco da tavolo Ci metti sempre questo Le sensazioni, le emozioni, non le puoi accantonare Allora, si parla di parere, non di recensione Io non do mai recensione, io faccio pareri, do sensazioni Comunico le mie impressioni Ed è quello che poi fanno tutti mascherandolo da recensione Perché quello che a me può piacere, a tante altre persone, no Quindi io non sono il detentore della verità Come non lo è nessuno Come scegli un gioco da recensire e quante partite ci fa in media prima di parlarne? Beh, innanzitutto, se rientra nei miei gusti e anche nel target del canale Nel mio caso non avrebbe senso portare un gioco da tavolo per bambini E prima di poterlo recensire faccio svariate partite Sia al prototipo digitale, sempre se c'è O comunque al prototipo o alla copia finale In media è difficile che faccia meno di cinque partite Ma ovviamente, in base alla tipologia di gioco, le eccezioni ci sono Lo scelgo tendenzialmente in base ai miei gusti Principalmente Poi ci sono dei casi in cui magari mi contattano e mi dicono Ehi, vuoi parlare di cose? E in quel caso vediamo se mi interessa sì, altrimenti no Quante partite dipende dal gioco Diciamo che con l'esperienza che ho fatto negli anni Riesco a capire i giochi molto più velocemente Rispetto magari a chi ha meno esperienza Quindi giochi un po' più semplici richiedono poche partite Quelli un po' più complessi ovviamente ne richiedono tante Se ti devo dare dei numeri È un gioco un po' più semplice Ne può richiedere due o tre Un gioco più complesso Siamo già sulle cinque, sei, dieci Dipende Una buona o cattiva recensione Può spostare in modo considerevole le vendite? Senti mai il peso di questa considerazione? Tantissimo Noi non ci rendiamo proprio conto di quanto le nostre parole Siano incredibilmente influenti in questo mestiere Io cerco di essere sempre molto educato Quando parlo di qualcosa Perché proprio Non riesco a concepire A tollerare l'utilizzo di parole forti e violente Come bocciatura Delusione Stroncatura Quando le sento mi parte veramente il nazismo Perché Vengono Nella grande totalità dei casi Completamente forviate E ovviamente Se io ti dico che un gioco per me è bocciato Vuol dire che è uno dei giochi peggiori Che sia mai stato fatto Quando invece semplicemente a me Non è piaciuto Ok? Ci sono delle cose che non mi sono piaciute Quindi io tendenzialmente cerco Di limitare Anzi di non utilizzare proprio queste terminologie Di analizzare i vari aspetti Di dirti quello che mi è piaciuto Quello che non mi è piaciuto Quello che mi ha convinto E quello che no Senza necessariamente essere aggressivo E dare addosso al lavoro degli altri Tu pensa che una volta Parlando di Venice Ho detto Al gioco mi piace Però Ste barchette che non si mettono una sull'altra Potevano magari farle un pochino meglio Pubblico il video Primo commento Flavio ha detto che il gioco è una E quindi capisci che Purtroppo Non puoi dire le cose come vuoi Il mio canale Penso sia un caso particolare Poiché specifico sempre i collaboratori Che la parte della recensione Delle considerazioni Non si tocca Però ho notato Che a prescindere che se ne parli male Oppure bene A molti Interessa soltanto la visibilità Certo Se poi tutti quanti ne parlano bene O ne parlano male Questo fa la differenza Quando hai capito Che questo poteva diventare Il tuo lavoro principale? Detto sinceramente Dopo un lungo periodo di depressione Ho deciso di rimboccarmi le maniche E farlo diventare Il mio lavoro principale Principalmente due eventi Uno è stato un editore Che un giorno mi ha detto Afla se entro l'anno prossimo Non ti fai pagare Mincazzo E questa è stata una cosa Che mi ha colpito particolarmente E un altro invece è stato Partecipare a questa demo Di questo corso Di human building Per chi non sa che cos'è È diverso dal team building Dove tu in ambito lavorativo Costruisci la squadra Unisci la squadra Qui invece si lavora Su se stessi Mi ha aiutato a capire Determinate cose E lì ho detto Ok Andiamo Proviamo Perché poi tendenzialmente Io sono quella persona Che fa ragione del tipo Ma che lo fai a fare Perché lo fai Ma dove devi andare Ma figurati Ma ci sono quelli Che lo fanno meglio di te Bla 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 E quindi mi sono sempre frenato Questi due eventi Mi hanno preso a zampate E mi hanno fatto lanciare Tre consigli A chi vuole provare A scrivere recensioni Il primo consiglio È di porvi l'obiettivo Nel divulgare E non soltanto Nell'ottenere Giochi gratuiti Mentre il secondo È quello di non farlo Diventare un mero business Ma invece mostrare La vostra passione Il terzo Se volete farlo Allora prendetevi tutto il tempo Di questo mondo Per farlo bene A scrivere O anche a fare video Immagino Tre consigli Allora Prima di tutto Lo devi fare Perché ti piace Ok Perché è una cosa Che sai che ti può dare soddisfazione Quando inizi a fare una cosa Perché la devi fare O perché hai un secondo fine Tipo quello di farti regalare le copie Hai sbagliato proprio In partenza Anche perché poi si vede Lontano un miglio Il motivo per cui lo fai Dopodiché Armati di Tantissima 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 Pazienza Perché quello che farai Sarà costantemente Criticato Da tantissime persone Tanti ti faranno complimenti Apprezzeranno il tuo lavoro Ma tante altre Ti aggrediranno Solo per invidia Fondamentalmente E Queste cose pesano Dopo un po' Iniziano a pesare Quindi Infatti Spiegato così E preparati Perché Ti prenderà veramente Tantissimo tempo Ne hai giocati e visti Talmente tanti Che ci viene da chiederti Se sederti a un tavolo da gioco Ti dà sempre la stessa adrenalina E ti diverte sempre Allo stesso modo Purtroppo Questo è uno degli aspetti negativi E infatti i giochi da tavolo Non mi danno più La stessa adrenalina Per ogni tanto Qualche sorpresa Spunta E mi ricordo Com'era bello Necessariamente le cose Sono cambiate Ovviamente Le prime volte Che giochi I giochi da tavolo Sei Oh mio Dio È bellissimo E poi Dopo un po' Le cose le hai provate Le hai viste E quindi La sorpresa Non c'è più Ma poi Io alla fine Quando mi alzo dal tavolo Penso Boh Mi sono divertito Sì Perfetto Allora ho vinto Come è cambiato Il tuo modo di giocare Da quando sei un recensore Riesci ancora Quando lo desideri A giocare E basta Con leggerezza Senza pensare sempre Agli aspetti tecnici del gioco Non ci riesco più Oramai Quando in tavolo un gioco Analizzo subito Gli aspetti tecnici Cercando di considerare Ogni elemento Pregio e difetti E raramente Mi capita di giocare In modo completamente Spensierato Dipende Se è una serata Di gioco normale Tranquillo così Mi siedo Gioco Ovviamente Ho un'esperienza maggiore Quindi magari riesco a vedere Meglio determinate cose Magari vinco Più spesso Quando devo giocare un gioco Per farne dei video Ovviamente Lì è un po' diverso Perché lì devo stare Un pochino più attento A determinate cose Che sono poi quelle Di cui vado a parlare Quando faccio i video Un paio di domande cattive Il gioco più brutto Che ti sei trovato a recensire Brutto Nel senso che Non si può guardare Per quanto è brutto O magari intendi Che non mi è piaciuto Perché non mi ha divertito Allora In realtà Fortunatamente Nessuno Perché i giochi Che finiscono sul canale Sono necessari Seriamente dei titoli Che mi sono piaciuti Altrimenti Non ci finiscono Recentemente Mi capita di portare Anche dei titoli Che comunque Ho giocato E non mi hanno fatto impazzire Ci sono stati dei giochi Che Non mi sono piaciuti Più di tanto Ma da definirli brutti No Non direi Forse ecco Quello che mi viene in mente Ultimamente Che è stata un'esperienza Abbastanza drammatica È stato archeologico Devo ammettere Devo ammettere Devo ammettere che ero Giovane inesperto E infatti accettare Di fare la recensione Di un gioco da tavolo Sul calcio Di cui non ricordo Nemmeno il nome Ma se andate a cercare Tra i primi video Del canale Sicuramente lo trovate Una reazione incazzata Di qualcuno A cui è stroncato un gioco Si può raccontare? Non dimenticherò mai Le reazioni al video Che feci Di This War of Mine Dove alcuni soggetti Mi minacciarono privatamente E mi diedero Del sabotatore industriale Sempre per il discorso Di cui sopra Non mi è mai successo Perché tendenzialmente Parlo solo di giochi Che mi sono piaciuti Sicuramente Mi sono trovato A parlare con degli autori Di cose che in un gioco Magari non mi sono Tanto piaciute Ma discussioni normali Come ti vedi Tra dieci anni In che modo pensi Possa cambiare Quello che fai? Pelato Con la panza E più povero No Spero che Questo lavoro Possa Continuare Possa crescere Perché Penso di aver trovato Quella che è la mia strada La realtà È che gli obiettivi Della vita Sono davvero a breve termine E infatti Non mi vedo Nemmeno tra una settimana Ma spero in futuro Di poter creare I miei giochi da tavolo Così da essere più completo Non soltanto Come giocatore recensore Ma anche di iniziare La strada Di chi crea le regole Dei giochi da tavolo Siamo ai saluti Grazie per aver condiviso Con noi La vostra esperienza Adesso però Per farci fare il botto in rete Chiudiamo con un tuo coming out Ludico Che nessuno si aspetta Come detto Nella domanda precedente Vorrei iniziare a creare I miei primi giochi da tavolo E infatti sto pensando Di realizzare Una mia etichetta di giochi Yeee Finalmente Finita Scherzo Oddio Una cosa che nessuno si aspetta Allora Ho giocato Recentemente Finalmente Per la prima volta Terraforming Mars E mi ha fatto schifo Perché era la prima partita Ok Terraforming Mars E' uno di quei giochi Che non puoi giocare Con giocatori Tu hai la prima partita E gli altri Che hanno già fatto Tante partite Perché nella maggior parte Dei casi Il gioco non ti piacerà Loro riescono a fare Tre milioni di cose Si divertono Contentissimi Fanno una partita eccezionale E tu sei lì Prendi una monetina E' terribile E' stata un'esperienza Veramente veramente brutta Riconosco che sia un gioco Sicuramente validissimo Però La prima esperienza E' straterribile E' un gioco che devi giocare Con giocatori Con la stessa esperienza Infatti se ti capita Di avere giocatori Che l'hanno già giocato Fatti qualche partita Con l'app E poi gioca con loro Sicuramente la tua esperienza Sarà migliore E apprezzerai molto di più Il gioco Vincenzo Saluta Flavio E digli qualcosa Che non gli hai mai detto Ehi Flavio Grazie di essere stato Uno dei primi Che ha creduto in me Specialmente in uno Dei periodi più bui Della mia vita Flavio Saluta anche tu Vincenzo Dicendogli qualcosa Che non gli hai mai detto Ti preferivo Bionda Ciao ragazzi Un saluto A tutto il pubblico E tutto il privato Ciao a tutti E mi raccomando Fate conoscere Sempre a più persone Questo nostro bellissimo hobby